Buona fortuna. Ehi Avengers, lo SHIELD ha scoperto che l'IM possiede una lista di possibili rischi per la sicurezza. Le persone e cose che Monica tiene d'occhio? Sicuramente tiene l'IM sotto chiave. Peggio, fanno sorvegliare l'area da una squadra d'assalto orbitale. Cioè? Non appena la mia squadra si è avvicinata, l'IM ha dato fuoco al centro dati e a tutto quello che c'era intorno. E sono pronti a farlo ancora. Per i miei agenti è troppo pericoloso, ma quella lista mi serve. Allora faremo sul serio. Nessun problema, comandante. Nonostante gli incendi ci sono ancora delle forze I.M. in zona. Ovviamente. All'IM non importa dei propri agenti. A te sì. I guerrieri non sono sacrificabili. Oh, quello sì che è un incendio. La I.M. è stata scrupolosa. La I.M. è stata scrupolosa. Starei bene. Starei bene. Attirateli. Starei bene. Starei bene. Starei bene. Starei bene. Grazie a tutti. Facciamo fuori questi tizi. Grazie a tutti. Ha funzionato. Dio, usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Dio, usi i suoi poteri. Dio, usi i suoi poteri. 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 nemici non fatevi intimidire siamo attestrati no 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 Noi sono fidgetti. Procedete verso il centro dati. Notizie dell'AIM? Sanno che siamo qui? Ancora nulla. Sembra che per una volta la fortuna sia dalla nostra. Le ultime parole famose... Molpiamoli forte e in fretta. La sua nuova è fatta. Volevo la sua nuova. Non scusare la nuova. Non scusare la nuova. Non scusare la nuova. Non scusare la nuova. Ehmici avvistati! Mi stupisce che non fossi a conoscenza della lista di Monica quando ero nell'AIM. Se ti può essere d'aiuto credo l'abbia creata a causa tua. Questo mi rende origine già. Bene, facciamo! Uno è andato! Uno è andato! Se ne ho preso uno! Uno è andato! Volete vedere tutte le mie armi! Uno è andato! 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 Sì ci siamo quasi. Ragazzi, sto lottando contro il dolore! Sì! Jarvis sta scaricando la lista. Bene. Monica avrà qualche difficoltà a stilare una nuova lista ora che l'IM è cresciuta così tanto. Non vedo l'ora di dare il benvenuto a nuovi alleati. Romanoff, mi affido a te per classificare i potenziali disertori. Non vedo l'ora. Grazie, Thor. Non devi ringraziarmi, ma prego. Vi lascio, passo e chiudo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.